Ciao a tutti ragazzi, questo è un altro video di questo nuovo video Oggi ritorniamo in un nuovo video della rubrica che ho definito Murri e le mestruazioni Con il pisello però, iniziamo subito Pensate a quanto cazzo sono mestruato nella mia fossi donna No, 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 no Vabbè, piccole digressioni Sorpresa, sorpresa Sorpresa, sorpresa E va bene Che poi si passa anche alle tre cose Proprio ai tre gesti che non dovreste Fare ad uno youtube Un enorme palo nel culo A molti non dà tantissimo fastidio Diciamo che questa cosa Mi spinge un po' ad adottare dei metodi medievali Cioè, quelli di prendere un enorme palo nel culo Mi hanno sgabbo Penso in 300 persone E ogni volta sono costretto a Prendere un enorme palo nel culo Bestemmio Bestemmio Best 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 Bestemmio Bestemmio Già avevo delle lezioni Diciamo un po' sparse Anche i peli Mi si erano E resto Sbatte proprio un enorme palo nel culo Ma Intanto ti calmi Murri lo storpio Gli infilato un dito nel culo Funzione Sì ragazzi Soprattutto le dita nel culo Quelle Sì Io spero che il video vi sia piaciuto E spero che ovviamente lo prendiate come deve essere preso Cioè Uno sfogo di una persona con le mestruazioni Murri con le mestruazioni È un video un po' cazzone Quindi ragazzi Io spero che il video vi sia piaciuto Noi ci vediamo al prossimo video Wooo Wooo Grazie a tutti